Questa è TMZ. Esplorate, saccheggiate e trovate informazioni per accedere a missioni e bersagli. Aspettatevi resistenza dalle forze locali e dagli operatori nell'area. Vado qui. Ultra 1, sembra ci siano pochi nemici nella vostra area. Mi hanno beccato! Ultra 1, minaccia nemica moderata vicino a voi. Grazie per la visione! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Come on! Oh no! Vado qui! L'elicottero di supporto nemico viene verso di voi! Marco la zona d'atterraggio!